Ho trovato da poco un'attività commerciale che mi stava dando qualche problema e finalmente così mi sono decisa a provare Astrolotto. Ho telefonato e sono arrivati direttamente a casa mia, fra l'altro in forma riservata, i numeri da giocare. Ho provato ed è andata benissimo. Fra l'altro non ho vinto una sola volta, ho vinto ripetutamente e così ho potuto risolvere i problemi collegati alla mia attività. Fin da quando ero più giovane ho sempre avuto passione per il gioco dell'otto. Ho giocato secondo le mie possibilità, però non ho mai avuto grandi soddisfazioni, piccole vincite. Ho sentito parlare di questo gioco Astrolotto, mi sono interessata, mi sono informata, ho ricevuto i numeri personalizzati e da qui ho cominciato a giocare naturalmente, somme abbastanza normali. Ho avuto soddisfazione, sono molto contenta, consiglio a tutti questo gioco e ringrazio Astrolotto. Allora, non siete ancora convinti? Se ho accettato di condurre questo programma è perché conosco personalmente il dottor Seltman e so che il suo sistema potrebbe regalare soldi e vincite a tutti voi. Quante volte avete giocato all'otto senza mai un minimo di soddisfazione? Questo accade perché i numeri che giocate non sono i vostri e soprattutto non conoscete le ruote giuste su cui puntarli. Oggetti che spesso vedete solo in sogno o comunque di ripristinare un bilancio familiare. Tutto questo attraverso le vincite che potreste ottenere al gioco dell'otto. Un gioco semplice, antico e pieno di fascino. Entrate anche voi nel magico mondo di Astrolotto. Chiamate subito e prenotate il sistema astronumerico che potrebbe darvi la felicità. Grazie.